Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nella sede della protezione civile di Pezzaro in via Lombardia si è conclusa l'iniziativa SOS Ucraina con la raccolta dei beni e materiali per i profughi ucraini. Che bilancio si può fare con il presidente della protezione civile, Ugo Schiaratura? Un bilancio molto positivo, abbiamo raccolto 150-160 quintali di roba e di materiali alimentari, ne abbiamo mandato un centinaia di quintali da loro in Ucraina e il resto abbiamo distribuito alle famiglie che ospitano la gente qui a Pesaro. Il lavoro è comunque continuo in qualche modo? Sì, il lavoro è continuo anche per informazioni, adesso come raccolta alimentari noi non ce l'abbiamo più perché non abbiamo più materiale da distribuire, ma vengono a fare richieste per come si fa a avere i contributi per le persone che sono ospiti, profughi qui a Pesaro e quello lo diamo una grossa mano perché è organizzato dalla protezione civile al Dipartimento Nazionale, però la gente non ha tutte quelle informazioni che noi cerchiamo di dare. Contributi che in base alle ultime segnalazioni ancora tardavano ad arrivare? Beh però la piattaforma è aperta, ci hanno messo un po' ma è aperta da settimana, si può andare nel sito del Nazionale, Protezione Civile, Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Emergenza Ucraina e lì si apre una pagina e si va avanti e dicono esattamente tutto quello che deve fare, è abbastanza semplice. Dopo tutto il lavoro per il Covid che ancora continua per la protezione civile, ora anche questa parte legata ai profughi ucraini, il lavoro sicuramente per voi non manca? No sicuramente non manca, ancora continuiamo anche se è diminuito per i vaccini, facciamo i tamponi tre giorni a settimana qui nella nostra sede, martedì poveriggio, giovedì poveriggio, domenica mattina, quello continua, è già un annetto che va avanti e niente, il lavoro non manca, giusto? Sicuramente anche altre attività in vista dell'estate, anche eventi? Sì, gli eventi già sono arrivate una serie di richieste perché si è sbloccata finalmente la pandemia, speriamo che sia, ha rallentato molto insomma anche se c'è qualcuno che il Covid ancora ce l'ha ma in forma leggera, le attività diciamo sono ripartite e noi siamo impegnati molto anche lì.